Il MOA, Museum of Operation Avalance, è situato nell'interno del suggestivo scenario del complesso monumentale di Sant'Antonio nel centro antico della città di Eboli e riporta la documentazione relativa allo sbarco alleato sulle coste del Sele nel settembre 1943, denominato Operation Avalance. Infatti, il 9 settembre 1943, mille navi con quasi 200.000 militari inglesi ed americani sbarcavano sulle coste della Piana del Sele per l'operazione Avalance. La più grande manovra militare che il Mediterraneo avrebbe mai conosciuto, ma anche la più grande operazione di sbarco sino a quel momento mai effettuata nella storia militare, superata soltanto di lì a pochi mesi dallo sbarco in Normandia. L'Italia, il Golfo di Salerno, la Piana del Sele, avrebbero vissuto giorni di sangue e di lotta, di aspri combattimenti e gesta eroiche. Giorni di guerra, giorni di liberazione, che restano scolpiti nei ricordi della popolazione e di un intero territorio. Un evento che avrebbe cambiato la storia, l'Italia, la guerra mondiale e il destino di tutto il mondo. Due sono i percorsi storici permanenti. La mostra di fotografie storiche provenienti dall'archivio di Angelo Pesce e la sala multimediale interattiva dove i visitatori possono rivivere le fasi salienti degli avvenimenti bellici che ebbero come scenario la Piana del Sele. Entrambi gli allestimenti realizzati nel 2011 in occasione del progetto Lo sbarco alleato sulle coste del Sele, questo è il titolo, cofinanziato dalla regione Campania, consolidano oggi un progetto integrato di recupero della memoria e di valorizzazione della creatività ed una rete pubblico-privata di investimenti sostenuta dal comune di Eboli in partenariato con associazioni ed enti internazionali. Grazie a questo sforzo congiunto che mira a valorizzare, in chiave di sviluppo sociale, culturale ma anche turistico, gli investimenti pubblici fin qui sostenuti, sono fruibili in aggiunta anche cinque sale tematiche con armi, divise ed oggetti della cultura materiale dell'epoca. Inoltre vengono svolte anche attività di grande spessore artistico, mostre, iniziative di divulgazione, formazione e anche itinerari turistici alla scoperta delle vicende storiche che hanno avuto come teatro il territorio campano.